Noi siamo qui a parlare di una sconfitta, siamo qui a parlare di una clamorosa sconfitta nel corso di una guerra che l'Italia ha vinto. Non solo l'Italia ha vinto la prima guerra mondiale, ma l'Italia nella prima guerra mondiale ha fatto uno sforzo organizzativo, industriale, umano, enorme. Ha fatto dei sacrifici giganteschi, eppure di quella guerra Caporetto è in realtà l'episodio che si ricorda di più. E non soltanto in Italia purtroppo, ma anche all'estero, dove Caporetto è una parola sgradevole, evoca appunto, come diceva il professor Dondarini, la fuga di un esercito. Il problema è che di questo non possiamo incolpare gli altri, perché se Caporetto non solo si è verificata, e quello è un conto, ma è poi passata immediatamente nella conoscenza dell'opinione pubblica mondiale, in certi termini, è in realtà responsabilità dell'Italia di allora, che però come vedremo è sotto certi aspetti l'Italia di sempre. L'Italia è un paese che allora era sospeso fra la modernità e l'arretratezza, e che ha compiuto uno sforzo che solo un grande paese moderno poteva compiere, e però ha pagato un conto per quello sforzo della prima guerra mondiale salatissimo. Voi sapete che dopo la prima guerra mondiale i paesi che hanno vinto hanno incontrato tante difficoltà economiche, sociali, però in realtà la Gran Bretagna, la Francia, a maggior ragione gli Stati Uniti, hanno retto. I paesi sconfitti prima o dopo sono precipitati nell'anarchia, nella rivoluzione, nella guerra civile, nella dittatura. L'Italia da quel punto di vista lì ha avuto un destino più simile a quello dei paesi sconfitti nella prima guerra mondiale, più simile che non a quello dei vincitori, e questo ci dà già l'idea del prezzo pazzesco che il paese ha pagato per quella guerra vinta. Ma come vi dicevo Caporetto è una parola famosa in tutto il mondo, non lusinghiera per l'Italia e per gli italiani, ed è anche responsabilità del modo in cui il nostro paese ha gestito l'indomani di quella vicenda, se la memoria collettiva poi, come dire, la ricorda come quel posto dove gli italiani sono fuggiti. Voi sapete nel nostro paese quando c'è una grande tragedia nazionale c'è un modo per affrontare il problema. Si istituisce una commissione parlamentare di inchiesta. La commissione parlamentare di inchiesta istituita all'indomani di Caporetto ha lavorato in realtà molto e molto a fondo, ha raccolto una marea di testimonianze, però il loro mandato era di dire di chi è la colpa. E quando il mandato è di dire di chi è la colpa e tu cominci a fare dei nomi e poi verrai naturalmente accusato di averne fatti alcuni e dimenticati altri, perché una commissione parlamentare di inchiesta fa politica. E allora è chiaro che in un paese come l'Italia non ci si accontenta dei risultati della commissione parlamentare, ma si va avanti, da noi per cent'anni siamo andati avanti a chiederci, me lo chiedono ancora adesso perché io ho fatto questo libro e mi capita di parlarne in giro e tanti hanno ancora questo interrogativo, ma è stata colpa di Cadorna, a cui oggi vogliono togliere, c'è un movimento come sapete per togliere le vie, le piazze intitolata Cadorna, è stata colpa di Badoglio. E a quel punto naturalmente i Cadorna e altri hanno reagito fin da subito dicendo no, è stata colpa dei soldati, è colpa dei soldati che sono scappati, è colpa del popolo italiano corrotto dalla propaganda pacifista, sovversiva. Insomma noi non abbiamo mai smesso di, come dire, scontrarci e spaccarci intorno a questa faccenda delle colpe. Allora io vorrei raccontarvi stasera non di chi sono le colpe, perché non è quello il punto per lo storico, ma provare a vedere alcuni dei motivi per cui il nostro esercito è crollato cent'anni fa a Caporetto. Ecco magari cominciamo ricordando di cosa stiamo parlando esattamente. Caporetto è un'offensiva austriaca ma soprattutto tedesca contro l'esercito italiano sul fronte dell'isonzo scatenata il 24 ottobre del 1917. Noi eravamo entrati in guerra, come sapete, il 24 maggio del 1915. Per noi è la guerra 15-18, anche se per tutto il resto del mondo è la guerra 14-18, perché quando noi siamo entrati in guerra la guerra era già cominciata da dieci mesi, era cominciata ai primi di agosto del 14. Noi entriamo in guerra il 24 maggio dichiarando guerra all'Austria, che nella coscienza collettiva delle classi dirigenti italiane è il nemico secolare. Generazioni sono state educate a pensare all'Austria come al nemico secolare dell'Italia. Il bello poi è che tecnicamente noi eravamo alleati dell'Austria in quel momento, c'era la famosa triplice alleanza, ma la triplice alleanza si spiega benissimo. La triplice alleanza è una cosa che gli italiani trangugiano perché essere alleati con l'Austria non piace a nessuno, ma essere alleati con la Germania piace enormemente. La Germania tra 8 e 900 è popolarissima da noi, la Germania è il grande paese moderno che noi vorremmo essere, la Germania è il paese industriale che ci sta insegnando, in Italia è pieno di imprenditori industriali tedeschi che portano capitali e creano industrie in Italia ed è anche già pieno di italiani emigrati a cercare lavoro in Germania, ce n'è una marea. Dopo Caporetto i tedeschi rimarranno stupefatti vedendo com'è facile fra le centinaia di migliaia di prigionieri che hanno fatto trovarne che parlano tedesco perché sono stati a lavorare in Germania, è pieno fra i nostri soldati. Allora noi ammiriamo molto la Germania e per questo trangugiamo anche l'idea della triplice alleanza con l'Austria, la quale Austria peraltro anche lei ci considera il nemico ancestrale. Nella formazione della classe dirigente austriaca e in particolare dei militari austriaci è una cosa proprio esplicita. Il vero nemico dal tempo dei nonni è l'Italia, i traditori italiani che ci hanno portato via un pezzo dei nostri possedimenti e poi un altro pezzo e adesso vorrebbero di più, Trento, Trieste, ma non si fermano mica lì gli italiani, vogliono le città tedesche di Bolzano, di Merano, vogliono l'Istria, la Dalmazia. Allora in Austria è molto forte la coscienza che l'Italia è un paese con interessi contrapposti ed è il nemico ancestrale. Qualche anno prima quando c'era stato nel 1908 lo spaventoso terremoto di Messina e l'Italia era in quel momento in ginocchio per l'immenso colpo della strage del terremoto di Messina, il comandante dell'esercito austriaco Conrad cerca di convincere l'imperatore Francesco Giuseppe a dichiarare guerra all'Italia. Non ci sarà mai più un'occasione così bella per regolare i conti con gli italiani. E invece siamo noi nel 24 maggio del 1915 che entriamo in guerra e dichiariamo guerra all'Austria, non alla Germania, la guerra con la Germania viene fuori dopo, un anno dopo, per obblighi, ma la guerra è all'Austria. E siamo noi che dichiariamo guerra all'Austria perché l'Austria è in guerra già da dieci mesi e in quei dieci mesi ha subito dei disastri apocalittici. A partire dall'agosto del 1914 gli eserciti austriaci che combattono su due fronti contro i russi e contro i serbi, contro i russi in Polonia e contro i serbi nei Balcani, gli eserciti austriaci hanno subito una sconfitta dopo l'altra, hanno avuto perdite spaventose. A occhio e croce un milione di uomini, tramorti, feriti, prigionieri. L'esercito austriaco cioè dopo dieci mesi di guerra è già quasi in ginocchio e noi entriamo in guerra contro un nemico che da solo di solito sarebbe stato più forte di noi, ma che in quel momento sembra debolissimo. E quindi noi attacchiamo. E' qui che volevo arrivare. Per quasi tutta la guerra siamo noi i più forti e siamo noi che attacchiamo. All'inizio con grandi illusioni. Cadorna, comandante in capo dell'esercito italiano, è abbastanza sicuro che Trieste si prende subito. Tutta il più sverneremo a Lubiana prima di procedere verso Vienna nella prossima primavera. In realtà, come sapete tutti, le offensive italiane non vanno avanti. Per due anni e mezzo Cadorna attacca sul Lisonzo. Si combattono undici battaglie del Lisonzo, che non hanno nemmeno un nome proprio, perché sono tutte nello stesso posto. Perché in realtà gli austrieci non cedono. Ogni tanto si va avanti un pochino, ogni tanto si canta vittoria, ma fondamentalmente è sempre lì. E siamo sempre noi che attacchiamo. Undici offensive sul Lisonzo. Una sola volta, prima di Caporetto, gli austrieci hanno attaccato loro. Quella che è passata la storia come la strafexpedizione, la spedizione punitiva contro i traditori italiani, cioè l'offensiva che Conrad, comandante austriaco, organizza nell'estate del 16, primavera-estate, nel Trentino, e che per un pelo non li porta a Vicenza. Perché gli italiani sono talmente abituati all'idea che siamo più forti noi. E quindi attacchiamo noi. Che l'idea che gli austriaci ci possano attaccare loro sembra fuori dal mondo. E in effetti comunque vengono fermati sull'altipiano d'Asiago e poi ricominciamo a attaccare noi. E per tutto il 17 attacchiamo noi. Fino appunto all'undicesima battaglia del Lisonzo. E non passiamo in profondità. Trieste è ancora lontana. Non passiamo anche perché i reparti austriaci sul fronte italiano combattono con un'ostinazione che non dimostrano né contro i russi né contro i serbi. Questa è una cosa di cui ci sono infinite testimonianze. I reparti tirolesi nel Trentino combattono con le unghie e con i denti per difendere, magari non tanto Trento per quanto anche, ma certamente Bolzano e il Brennero dagli italiani che vorrebbero arrivarci. Sul Lisonzo i reggimenti sloveni e croati combattono con le unghie e con i denti contro un'Italia che è vista come una potenza imperialistica che vuole schiacciare le nazionalità slave. Quindi noi non passiamo però un po' andiamo avanti. E in particolare nell'undicesima battaglia dell'Isonzo, agosto 1917, è quella che viene considerata dal comando italiano come la più riuscita di tutte. E anche il comando austriaco si spaventa. Siamo andati avanti a nord di Gorizia sull'altipiano della Bainsizza. Siamo andati avanti di dieci chilometri. Dieci chilometri non spostano le cose più di tanto, però nella prima guerra mondiale le conquiste a volte si misurano col metro e essere andati avanti di dieci chilometri sembra molto. Tant'è vero che lo stesso comando austriaco si spaventa. Solo loro sanno come sono ridotti. Le offensive italiane sono costosissime, costano a noi un mare di sangue ma anche a loro. E l'esercito austriaco ormai è veramente ridotto al lumicino. L'impero austriaco è in miseria e sta morendo di fame. C'è il blocco navale, i nostri alleati dominano i mari, l'Austria è completamente isolata, non arriva niente, la gente muore di fame a Vienna in quell'inverno e i soldati fanno la fame nelle trincee. A fine di agosto, con l'offensiva italiana sulla Bainsizza ancora in corso, il comando supremo austriaco si convince che se gli italiani un po' più tardi attaccano un'altra volta, il fronte rischia di crollare. Gli italiani arrivano a Trieste e se gli italiani arrivano a Trieste è finita. Allora gli austriaci si convincono che bisogna fare qualcosa. Bisogna assestare una botta agli italiani, bisogna ributtarli indietro, riprendergli quel po' di terreno che hanno occupato dopo lo scoppio della guerra, ributtarli almeno al vecchio confine. Però da soli gli austriaci non hanno le forze per montare un'offensiva di quelle dimensioni. Ci vogliono truppe, truppe fresche, truppe ben armate, ben addestrate, cannoni, aerei, munizioni, una quantità di roba che gli austriaci non hanno più. Però gli austriaci hanno il fratello maggiore, i tedeschi, l'impero del Kaiser, che ha l'esercito più forte del mondo in quel momento, anche se questo esercito combatte su tre fronti, in Francia, in Russia, nei Balcani e quindi anche lui, anche l'esercito tedesco è impegnato allo stremo. Però gli austriaci lo stesso, vanno dai tedeschi a chiedere ci prestate un po' di divisioni per montare un'offensiva contro l'Italia. E costa agli austriaci andare a chiedere questa cosa, perché fra i tedeschi e gli austriaci i rapporti non sono affatto buoni. I tedeschi hanno un'impressione degli austriaci, io per fare questo libro ho letto tante cose, memorie, testimonianze, è pieno di queste testimonianze. I tedeschi quando parlano dei loro alleati austriaci è perfino un po' imbarazzante per noi italiani, perché per noi italiani gli austriaci sono un nemico tenacissimo, sono alla nostra altezza. Anche l'Austria è un grande paese che però non è una vera grande potenza, ha come dire aspetti di modernità, grandi città industriali, però ha anche un grande entroterra contadino, un tasso di analfabetismo molto alto, è come noi l'Austria, un po' più grande ma dello stesso livello, non proprio una grande potenza, non proprio un paese moderno, quasi. Con l'esercito austriaco noi ce la giochiamo alla pari, per noi italiani siamo un avversario terribile, lo dicono gli austriaci, e per noi italiani loro, l'esercito austriaco, sono un avversario assolutamente dignitosissimo, con cui facciamo una gran fatica. E per questo che è un po' imbarazzante scoprire che i tedeschi pensano che gli austriaci sono dei primitivi, balcanici, arretrati, disorganizzati, completamente incapaci di organizzare le cose, che non hanno capito niente della guerra moderna, che non sanno far funzionare niente, che si affidano alla buona stella sperando che le cose vadano bene, ecco. E gli austriaci lo sanno che i tedeschi pensano questo, e gli austriaci detestano i tedeschi del Reich, li detestano, li trovano presuntuosi, arroganti. Quindi immaginate cosa vuol dire andare col cappello in mano al comando supremo tedesco a chiedere aiuto. Però lo fanno, perché sono ridotti alla disperazione. E l'altra cosa un po' imbarazzante per noi italiani è scoprire come reagiscono i tedeschi. Quando arrivano gli austriaci chiedendo in prestito dei reparti tedeschi da portare in Italia, la reazione del comando supremo tedesco è letteralmente, lo scrivono, lo scrivono anche nei loro libri nel dopoguerra i comandanti tedeschi. La reazione è, ma perché dobbiamo sprecare delle truppe contro un nemico insignificante come l'Italia? Ma cosa interessa a noi del fronte italiano? Se proprio dobbiamo fare qualcosa insieme attacchiamo la Romania, che è molto meglio perché poi da lì si attacca la Russia da sud strategicamente più interessante. Però gli austriaci insistono. E alla fine, sapete, l'esercito tedesco aveva questa coppia al comando. C'era il vecchio Feldmaresciallo von Hindenburg, che era il personaggio autorevole, prestigioso, ma in realtà di facciata. E poi c'era il suo quartiermastro generale Ludendorff, che era il vero stratega. Allora il vecchio Feldmaresciallo von Hindenburg lo racconta poi nelle sue memorie. In quel momento si è ricordato che quando lui era bambino un'altra grande guerra, la guerra di Crimea, si era conclusa per la conquista di un porto, Sebastopoli. Caduto a Sebastopoli la Russia si era arresa. E lì lui dice, a quel punto ho capito, se cade Trieste l'Austria non ce la fa più e allora sono guai anche per noi tedeschi. Quindi bisogna farlo. E allora in buona sostanza ecco che nasce Caporetto. Ai primi di settembre un generale tedesco, esperto della guerra in montagna, il generale Kraft von Delmenzingen, viene mandato a esplorare il fronte del Lisonzo. Si mette un berretto austriaco, una giacca austriaca, perché gli italiani non devono sapere. Fa il giro del fronte e dopo tre giorni telefona. Si può fare. Poi torna e cominciano a pianificare la cosa. Siamo ai primi di settembre e viene messo in piedi uno stato maggiore tedesco con generali e colonnelli di altissima qualità, professionisti, a cui si dice vi diamo un'armata, pianificateci questa offensiva. Entro un mese e mezzo al massimo bisogna farla, perché poi nevica e viene l'inverno, laggiù è montagna. E questo stato maggiore tedesco si mette al lavoro, si incontrano per la prima volta in un albergo di Vienna, spianano le carte geografiche sui tavoli e cominciano a ragionare. E fra parentesi la pianificazione di una grande battaglia della prima guerra mondiale è una cosa affascinante, perché è un lavoro immenso. Facile dire, spostiamo, quante divisioni ci vogliono? Ci ragionano un po'. Sei divisioni, centomila uomini, più i loro cannoni, ecco. Devi spostare centomila uomini, mille cannoni, un milione di proiettili di artiglieria. Dove li devi portare? Nella valle del Lisonzo. Cioè le ferrovie arrivano, fin lì no, non arrivano. Quindi? Quindi calcoliamo. Ci sono per fortuna degli specialisti del trasporto ferroviario in uno stato maggiore tedesco, perché sono professionisti. E allora si calcola. Dove scenderanno dai treni le truppe? A Lubiana, a Villa. E poi? E poi una settimana di marcia in montagna. Allora è meglio che ci sbrighiamo, cominciamo. Quanti treni ci vogliono? Sapete quanti treni ci sono voluti per portare l'esercito, quell'armata, la quattordicesima, quell'armata tedesca sul fronte del Lisonzo? 1500 treni. Immaginate cosa vuol dire fare 1500 treni speciali che nel giro di poche settimane devono caricare le truppe in Galizia, in Volinia e poi in Alsazia e poi scaricarle a Villa o a Ljubljana o a Klagenfurt. 1500 treni. Un terzo del materiale ferroviario che normalmente serviva alla rete ferroviaria dell'impero austriaco viene confiscato momentaneamente per fare questa cosa. Che naturalmente vuole anche dire che la città di Vienna che sta morendo di fame in quel mese e mezzo riceve la metà delle patate che di solito arrivano a Vienna per dar da mangiare alla gente. Perché le patate arrivano in treno e i treni servono per fare altro. E questi 1500 treni, provate a immaginare quante migliaia di tonnellate di carbone, bruciano. Tutto carbone che non andrà a riscaldare le case dei civili nell'impero che sta morendo di fame e di freddo. Allora loro pianificano questa cosa con estrema precisione, portano sul fronte italiano questa massa di uomini addestratissimi, i migliori combattenti del momento e poi attaccano e fanno esattamente quello che avevano previsto di fare. Sfondiamo il fronte italiano e li ributtiamo indietro. Salvo che il comando supremo austriaco aveva detto ce li ributtate fino al vecchio confine sullo spartiacque e se va proprio bene magari fino al tagliamento. I tedeschi dicono nei colloqui con gli austriaci durante la fase di pianificazione ma perché solo se va proprio bene fino al tagliamento? Al tagliamento di sicuro e poi oltre vediamo fin dove arriviamo. Sotto sotto qualcuno si dice anche non è mica detto che non arriviamo a Milano però fino al tagliamento di sicuro e possibilmente oltre. Gli austriaci li prendono in giro. Il Mersallo Boroyevich che fino a quel momento ha comandato le difese austriache sull'isonzo che è un vecchio militare di carriera serbo ortodosso bravissimo nella difesa tenacissimo il leone dell'isonzo lo chiama la propaganda austriaca e però quando i tedeschi gli dicono noi al tagliamento ci arriviamo di sicuro e anche oltre Boroyevich gli risponde non ci arriverete mai 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 perché questo è quello che pensano gli austriaci degli italiani che hanno di fronte e invece i tedeschi sono convinti di farlo e come sapete lo fanno. Ci ributtano non solo al tagliamento ma al piave e va già bene che ci siamo fermati al piave perché per un po' si è discusso del mincio. Poi arrivare fino al mincio vuol dire abbandonare Venezia e a livello simbolico con la stampa mondiale che ha gli occhi puntati alla fine decidono no proviamo a fermarci sul piave e va bene per fortuna per fortuna e per il valore dei soldati va bene. Però capite cosa vuol dire a questo punto questo attacco che fa ritirare un intero esercito dopo combattimenti violenti sì ma non peggiori di quelli delle altre battaglie ecco perché Caporetto è una disfatta colossale non è perché abbiamo perso 40.000 morti e feriti oggi potrebbe sembrare di sì oggi come sapete noi viviamo in un'epoca in cui i criteri sono cambiati e la vita dei soldati occidentali vale politicamente molto di più oggi se 10 soldati ufficiali italiani o americani vengono uccisi in Afghanistan si fanno le interrogazioni parlamentari e allora no 40.000 morti e feriti in una battaglia è una cosa del tutto insignificante e nel caso che non mi crediate vi do un esempio qualche mese prima decima offensiva sull'isonzo giugno 1917 non è ancora l'undicesima che poi sulla Bainsizza va avanti di 10 chilometri e che spaventa a morte gli austriaci è la decima noi andiamo un po' avanti prendiamo qualche montagna alla fine della decima offensiva dell'isonzo un ufficiale del comando supremo italiano è il colonnello Gatti il capo dell'ufficio storico di Cadorna uno che scrive molto bene fra l'altro uno molto intelligente e che comunque esprime le opinioni che in quel momento corrono al comando supremo italiano finita la decima offensiva sull'isonzo il colonnello Gatti scrive nel suo diario i risultati visibili sono il monte Cook preso quota 363 presa il monte Vodic preso prigionieri austriaci circa 23.000 di fronte a questi buoni risultati la spesa nostra è stata di circa 70.000 tra morti e feriti e di circa 750.000 colpi di medio e grosso calibro spesi come vedete si tratta di una spesa la guerra è una compravendita io investo spendo tanti morti e feriti e tanti proiettili di artiglieria che costano cari e poi vedo i risultati e il colonnello Gatti conclude noi abbiamo largamente raggiunto lo scopo fossero sempre così le nostre battaglie potremmo essere soddisfatti allora voi capite cosa stiamo facendo noi stasera stiamo cercando di capire gente che viveva in quel mondo lì dove era normale ragionare così i 70.000 morti e feriti sono una spesa più che adeguata per quelle tre montagne che abbiamo preso ecco perché i 40.000 morti e feriti di caporetto non sono mica da soli il motivo per cui caporetto è famosa già un po di più magari i quasi 300.000 prigionieri perché lì si aggiunge uno zero come vedete l'ordine di grandezza è un altro quasi 300.000 prigionieri sono tanti sono proprio tanti è un pezzo intero di esercito italiano che svanisce e lasciamo stare poi il fatto che di quei 300.000 prigionieri nessuno sa quanti ma certo molti non tornano poi a casa ma muoiono nei lager muoiono di fame muoiono di tifo muoiono di spagnola nei lager perché perché la prigionia nella prima guerra mondiale è un'esperienza terrificante che certe volte non ha quasi niente da invidiare ai lager della seconda guerra mondiale anche se in realtà nessuno voleva che fosse così nessuno voleva che morissero i prigionieri ma non c'era da mangiare per nessuno in austria non c'era da mangiare per i loro soldati non parliamo dei loro civili figuratevi cosa rimaneva per i prigionieri non rimaneva niente noi oggi non sappiamo ma per molto tempo si è detto che su 600.000 italiani prigionieri nella prima guerra mondiale nel complesso di cui quasi metà a caporetto capite le proporzioni per molto tempo si è detto che su 600.000 100.000 sono morti nei lager poi in realtà sono cifre un po sparate così andando a verificare saranno forse meno forse solo 50.000 facendo tutti i controlli possibili però anche così uno su dieci è morto come minimo uno di quei lager sarà poi famoso al tempo del nazismo si chiama Mauthausen era famoso già nella prima guerra mondiale anzi molti di voi avranno notato che in italiano spesso lo storpiamo e diciamo Mauthausen e io dei linguisti sostengono che probabilmente c'è una ragione inconscia perché richiama l'idea di mattatoio di mattanza ebbene già nella prima guerra mondiale tra i nostri soldati i nostri ufficiali il nome di Mauthausen corre dappertutto tutti l'hanno presente e già allora lo dicono Mauthausen c'è un ufficiale che viene catturato a caporetto che poi nel libro che scriverà dopo la guerra si ricorda di uno dei suoi sottufficiali che al momento in cui si accorgono che rischiano di essere fatti prigionieri gli grida a Mauthausen no signor tenente e poi ci sono più di 300.000 sbandati quasi 300.000 prigionieri più di 300.000 sbandati sbandati vuol dire soldati che durante la ritirata hanno buttato il fucile spesso si sono strappate anche le stellette non obbediscono più agli ufficiali sono convinti che la guerra è finita e che si torna a casa su questa cosa della ritirata se ho tempo parleremo perché è un'esperienza pazzesca che fanno quelle centinaia di migliaia di uomini nel caos più totale nell'anarchia più totale senza ordini anzi no diciamolo adesso così ci togliamo ecco è veramente un'esperienza che che fa quasi un milione di italiani contando anche quelli che sono rimasti un po più inquadrati e ordinati per settimane ritirarsi in mezzo a un'italia che sta bruciando perché brucia tutto l'ordine è bruciare tutto dare fuoco noi perché poi arrivano gli altri non gli lasciamo niente bruciano i paesi le stazioni i treni i depositi strapieni di roba che la nostra burocrazia aveva accumulato dietro il fronte mentre poi le cose alla truppa veniva andate col contagocce per risparmiare ma dietro c'erano depositi immensi strapieni di scatolette di carne americana di fiaschi di vino barili di liquore milioni di paia di scarpe tutto bruciato oppure si prende la roba a quel punto prima di dar fuoco e i nostri soldati si ritirano per settimane saccheggiando i magazzini riempiendosi la pancia ubriacandosi e poi cominciano a saccheggiare i negozi naturalmente le case civili è un'esperienza delirante che poi si ferma passato il piave è come se si risvegliassero un po tutti e ricominciano a fare quello che gli avevano insegnato per tutta la vita cioè ubbidire i signori ufficiali e quindi ricominciano a combattere sul piave le cose le cose cambiano però siamo arrivati al piave e intanto quei quel milione di soldati di cui poi appunto 300.000 vengono catturati durante la ritirata e altri 300.000 si sbandano completamente alcuni li ritrovano a milano e li vanno a prendere per riportarli indietro e in mezzo ci sono mezzo milione di profughi civili perché ovviamente i civili dal friuli dal veneto di fronte all'idea di un'invasione nemica tanti scappano scappano prima i signori perché i prefetti affiggono sui muri di udine i manifesti che dicono calma e ordine non c'è nessun pericolo intanto però quelli che hanno le informazioni salgono in macchina o in carrozza e se ne vanno e chiudono le ville un giorno o due dopo anche il popolo se ne accorge e comincia a partire e partono sui carretti con la roba coi bambini è pieno di testimonianze di gente che durante la ritirata ha visto la mamma a piedi che da giorni e giorni è lì che cammina col neonato al seno e il neonato è morto e lei non se ne accorta ecco e quindi mezzo milione di civili che insieme ai militari si ritirano verso quei pochissimi ponti sul tagliamento perché poi ci saranno quelli del piave ma quelli veramente drammatici sono quelli del tagliamento perché perché c'è il nemico dietro e c'è un intasamento terrificante le strade molti chilometri prima di arrivare al ponte sono completamente bloccate migliaia di veicoli camion lasciati lì carrette migliaia di carrette con i cavalli aggiogati che non vanno più avanti allora cosa si fa si spingono nel fosso di lato alla strada col cavallo ancora aggiogato nessuno perde tempo ad ammazzarlo cavallo sta lì e muore di fame migliaia di cavalli decine di migliaia di cavalli e arrivando ai ponti appunto si cammina a passo d'uomo e a un bel momento dall'altra parte gli ufficiari del genio cominciano a urlare col megafono guardate che fra un'ora il ponte salta perché gli altri stanno arrivando i tedeschi stanno arrivando quindi bisogna farli saltare e fra mezz'ora il ponte salta e il ponte pieno di gente e fra un quarto d'ora cinque minuti quattro minuti tre minuti poi i ponti saltano stracarichi di gente di soldati di civili e così via allora caporetto è questo e quando arrivano al piave e lì il nemico si ferma il nemico è andato avanti di 150 chilometri fate il confronto gli austrieci si sono spaventati perché noi sulla bensizza eravamo andati avanti di 10 chilometri allora capite che caporetto effettivamente è un evento poi nella prima guerra mondiale altri eserciti hanno subito sconfitte paragonabili ogni tanto è capitato una volta agli inglesi è capitato più di una volta ai russi ma insomma non è successo tanto spesso che ci fosse una catastrofe di queste dimensioni allora la domanda appunto io mi sono già giocato più di metà del mio tempo prima ancora di arrivare al tema e cioè il perché quali sono i fallimenti quali sono i motivi proviamo a darne qualcuno ce ne sono tanti come sempre non è questione di dire è colpa di uno è un sistema paese come diciamo noi oggi che ha dei limiti che anche delle forze naturalmente ma anche dei limiti e in quel momento vengono più fuori i limiti beh cadorna comandante in capo la risposta la sapeva e lo fa sapere nel famoso bollettino del 28 ottobre quattro giorni dopo l'inizio della battaglia quando ormai lui ha dovuto dare l'ordine di ritirata all'intero esercito italiano e giustifica il fatto di aver dato quest'ordine col fatto che l'esercito se no sta crollando dice cadorna in questo bollettino per la mancata resistenza di reparti della seconda armata vilmente ritiratisi senza combattere e ignominiosamente arresisi al nemico cadorna è sicuro che è così al di là del fatto che deve dire così perché se no e allora è sua la colpa no non sia mai è dei soldati ma cadorna in realtà ci crede davvero perché cadorna ricordiamoci che siamo nel 17 c'è la russia la rivoluzione d'ottobre non c'è ancora stata perché come sapete sarà a novembre ma ma la russia in piena rivoluzione in pieno disfacimento e già quell'estate cadorna è spaventato all'idea che la rivoluzione arrivi anche da noi che arrivi nel suo esercito e in italia c'è ci sono pacifisti che battono sul fatto che la guerra deve finire c'è perfino il papa che quell'estate pubblica una lettera in cui dice che la guerra è un'inutile strage e che deve finire cadorna per tutta quell'estate aveva tempestato di lettere il governo a roma dicendo la propaganda sovversiva pacifista sta minando l'esercito i soldati vanno in licenza e mi tornano e hanno sentito dei discorsi a casa da mettere i brividi che bisogna finire la guerra subito a tutti i costi se voi governo non la fate finita io non rispondo più di quel che succede è anche vero che qualche settimana prima di caporetto noi abbiamo una lettera di cadorna che scrive a sua figlia e farlo storico è bellissimo uno legge le lettere private della gente che non erano scritte perché le leggessimo noi ma poi sono venute fuori e uno le legge cadorna scrive moltissimo è un bravo padre di famiglia ha tre figlie di cui due suore è una famiglia molto cattolica è un figlio maschio raffaele e a questa famiglia scrive continuamente raccontando fra l'altro tutti i segreti militari che se l'avesse fatto un sottotenente lo sbattevano in fortezza o lo fucilavano ma cadorna racconta tutto e in una lettera a una non so più a quale dei familiari lui a un certo punto scrive siamo qualche tempo prima di caporetto anche oggi mi è arrivata una lettera di un soldato anonima il quale mi dice che se non faccio finire subito la guerra i soldati si rivolteranno e ammazzeranno me e tutti gli ufficiali fino all'ultimo sottotenente e dice cadorna di roba di tal genere ne ricevo tutti i giorni quindi cadorna quando gli vengono a dire che l'offensiva nemica è passata che le posizioni che sembravano così forti sono crollate cadorna fa due più due ed è come avevo detto io i soldati sono marci corrotti dalla propaganda dei rossi e scrive questo bollettino cadorna è uno emotivo poi il bollettino arriva a roma il governo lo vede si mettono le mani nei capelli perché sono dei politici si rendono conto di cosa vuol dire che il comandante dell'esercito italiano dice al mondo che l'esercito italiano crolla perché i soldati vilmente si ritirano e vergognosamente si arrendono senza combattere siamo pazzi il governo vieta la diffusione del bollettino obbliga cadorna a modificarlo peccato che nel frattempo è stato già trasmesso all'estero e quindi all'estero arriva ed ecco perché ancora oggi chiunque nel mondo si interessi di storia della prima guerra mondiale se gli dici caporetto si ricorda quella cosa lì quel posto dove gli italiani sono scappati ha detto cadorna ora molto rapidamente vi dirò che che non è così semplice sono stati fatti tantissimi studi da allora e negli ultimi anni molti veramente molto approfonditi sulla documentazione che è di una ricchezza pazzesca pensate solo che ogni singolo ufficiale italiano tornato dalla prigionio dopo la guerra ha dovuto compilare un memoriale in cui raccontava per filo e per segno in che circostanze era stato catturato quindi noi abbiamo i memoriali di 20.000 ufficiali tornati dopo caporetto ognuno dei quali racconta era quel giorno ero in quel posto è successo questo e questo ora ci sono studiosi mi piace citarne uno bravissimo paolo gaspari di udine che da anni studiano questo materiale che sta a roma all'archivio storico dello stato maggiore dell'esercito e che ci hanno dato un quadro molto dettagliato dei combattimenti di quei giorni i nostri combattono il primo giorno e in molti punti tengono anche duro poi come vi racconterò se ho tempo di arrivarci si accorgono di avere di fronte degli avversari troppo forti e allora a quel punto in effetti lo scoraggiamento viene fuori e allora a quel punto quando ti accorgi che il nemico va avanti lo stesso che non riesce a fermarlo che sta crollando tutto allora effettivamente poi da quel momento in poi i nostri cominciano a rendersi più facilmente del solito e a scappare più facilmente del solito ma non è per quello che sono crollati e il contrario sono crollati e allora a un certo punto a un certo punto non ne possono più e si arrendono e allora proviamo a vedere perché sono crollati una cosa che si sente dire molto spesso anche oggi è la sorpresa quella offensiva è arrivata di sorpresa accolto di sorpresa il comando è una cosa che non sta né in cielo né in terra c'è una documentazione vastissima ufficiale che giorno per giorno ci fa vedere che i nostri comandi sapevano tutto il bello che i tedeschi invece si illudevano si erano sforzati davvero di tenere tutto nascosto ve l'ho detto quando vanno a vedere si attravestono da austriaci le truppe tedesche arrivano in linea all'ultimo momento per evitare che si diffonda la notizia perché capite se sono arrivati i tedeschi che prima non c'erano sul nostro fronte vuol dire che qualcosa bolle in pentola tedeschi ci credono davvero mettono in atto misure anche di controinformazione poi a certo punto chiudono le frontiere censurano i giornali fan di tutto perché gli italiani non scoprano cosa sta per succedere in realtà io vi ho descritto che roba è preparare questa offensiva 1500 treni centinaia di migliaia di uomini coinvolti in realtà è impossibile se ne hanno nascosta una roba del genere ci sono mille modi in cui si viene a sapere intanto lo spionaggio in tutte le stazioni ci sono le spie che vedono passare i treni ecco poi metodi anche modernissimi di cui discutiamo ancora oggi ci sono già le intercettazioni telefoniche sapete le trincee nostre quelle nemiche spesso sono vicinissime in certi casi 50 metri e ci sono già degli apparecchi che si piantano nel terreno e che ti permettono di intercettare le conversazioni telefoniche dall'altra parte e dietro il fronte ci sono uffici con ufficiali che sanno le lingue che stanno 24 ore su 24 a ascoltare e trascrivere tutto quello che si sente questo lo fanno tutti e lo sanno tutti tant'è vero che sia i nostri sia gli austriaci quando parlano al telefono se possono parlano in dialetto nella speranza che quelli dall'altra parte facciano più fatica a capire di fatto si sa tutto senti gli ufficiali austriaci che dopo qualche giorno cominciano a dirsi allora hai saputo dell'offensiva che si sta preparando sono arrivati anche da te i nuovi rinforzi ecco e poi ci sono i disertori nella prima guerra mondiale i disertori sono dappertutto una marea capite milioni di uomini in trincea che fanno una vita infame e che si aspettano di morire da un giorno all'altro di questi milioni di uomini ogni giorno ce n'è qualcuno che non ne può più scappa e va ad arrendersi scappano i nostri e vanno ad arrendersi e scappano gli austriaci e gli austriaci scappano più dei nostri primo perché i nostri mangiano male ma mangiano e loro invece davvero fanno la fame in trincea e poi secondo perché l'esercito austriaco lo sapete è un esercito fatto da dieci nazionalità diverse e i tirolesi tedeschi o gli sloveni o i croati contro di noi combattono come vi dicevo tenacemente ma i rumeni o i cecoslovacchi allora non importa niente loro aspettano che crolli l'impero e quindi quelli disertano ne arrivano continuamente anche gli ufficiali e gli ufficiali sono sempre informati sanno delle cose le vengono a raccontare e poi quando si comincia a sapere che c'è un'offensiva in preparazione ne arrivano di più è sempre così è un sintomo infallibile quando aumenta il numero di disertori è perché le truppe nemiche hanno saputo che tra un po' le manderanno all'attacco e allora c'è più gente che dice io all'attacco non ci vado disertano in maggior numero e tra l'altro come fanno a saperlo perché in teoria le truppe mica lo racconti ma le truppe sanno tutto i soldati austriaci cominciano a sentir dire ma sai che sono passati i treni carichi di tedeschi davvero ma sei sicuro sì erano tedeschi si vedeva benissimo dalle divise da noi è arrivato un generale tedesco a comandare hanno piazzato cannoni nuovi e pare che siano tedeschi gli austriaci vanno a vedere se sono tedeschi gli chiediamo qualcosa da mangiare scoccia ma lo si fa perché i tedeschi sono ricchi e poi e poi vengono distribuiti gli elmetti d'acciaio impero austriaco e povero finora lo lesinava l'elmetto d'acciaio ma all'improvviso arrivano treni e treni carichi di elmetti d'acciaio e vengono distribuiti ai reparti in prima linea vorrà dire qualcosa e poi un giorno col rancio ci sono 20 grammi di pancetta che non si vedeva da mesi e anche quello vuol dire qualcosa ricompare la birra allora i soldati fanno 2 più 2 e tanti disertano e da noi arrivano ufficiali dalmati polacchi rubeni con gli ordini d'operazione dei loro reparti alla fine noi sappiamo il giorno preciso dell'attacco il luogo l'ora in cui comincerà il bombardamento spareranno per quattro ore granate a gas poi a partire dalle sei del mattino bombardamento a granate attaccheranno alle otto del mattino in quel punto alle nove in quell'altro punto sappiamo tutto in dettaglio solo che un conto è saperlo un conto è dire allora a questo punto cosa facciamo le informazioni sono chiarissime convergenti però però anche lì i nostri sono così abituati al fatto che gli altri non attaccano mai allora una prima reazione di dire reazione di chi di tutti le informazioni come capite arrivano sparse no è arrivato un tenente rumeno sul fronte della seconda armata il giorno dopo e all'ufficio informazioni della seconda armata lo interrogano dicono accidenti informazioni fantastiche mandiamole al comando supremo a udine al comando supremo c'è un ufficio informazioni che riceve tutte queste notizie più i bollettini le spie le fotografie fatte dagli aerei in ricognizione che però non vedono niente perché i tedeschi per tenere tutto segreto quella settimana di marcia in montagna le loro truppe per portarsi dalla stazione ferroviaria fino alle linee di partenza dell'attacco quella settimana di marcia gliela fanno fare solo di notte perché di giorno volano gli italiani e potrebbero vedere comunque tutta questa e anche quello conta dice come mai gli aerei non hanno visto niente e allora il nostro comando supremo è talmente abituato all'idea che noi siamo troppo forti non possono essere così scemi da attaccare che si sforzano di non crederci per un po si dice sì ma magari sono i preparativi per un contrattacco la prossima volta che attacchiamo noi loro si preparano a contrattaccare e poi e poi ci sono generali che si convincono e ci credono e altri che ci mettono veramente un bel po a convincersi cadorna fino all'ultimo non che non faccia niente però fino all'ultimo cadorna si dice ma secondo me un bluff ha su un tutte male non è mica vero però poi fa qualcosa lo stesso naturalmente e a quel punto proprio il fatto che da un lato in courtua non ci credi però ti dici vabbè facciamo come se prendiamo provvedimenti e quindi prende provvedimenti e lì si vede cosa vuol dire un esercito con una classe dirigente per carità di uomini anche di valore e cadorna era un uomo di valore era il migliore di tutti probabilmente non è per caso che era arrivato lì era un uomo con una forza di volontà straordinaria con capacità organizzative straordinarie e anche con enormi difetti chiuso intollerante di obiezioni è abituato ma qui tutti i nostri generali erano abituati a comandare stando in ufficio senza andare a vedere cadorna prende delle misure anzi imponenti qualche giorno prima dell'attacco nemico i corrispondenti dei giornali italiani accreditati a udine al comando supremo vengono tutti convocati in conferenza stampa gli fanno giurare il segreto e poi gli dicono fra pochi giorni arriverà una poderosa offensiva sono venuti i tedeschi attaccheranno lì e lì il giorno tale ma noi siamo tranquilli sappiamo tutto abbiamo preso imponenti misure difensive ed effettivamente le imponenti misure difensive le hanno prese hanno fatto affluire un'enorme quantità di riserve dietro la prima linea è arrivato un sacco di reparti nuovi poi vedremo cosa vuol dire questo ma sulle carte geografiche del comando hanno spostato tante bandierine tanti reparti che si trovavano in tutt'altro posto e che di punto in bianco hanno avuto l'ordine entro due ore in marcia e ci si trasferisce a caporetto ed intorni perciò sono tranquilli tutti dal basso in alto sapete i nomi più famosi dei generali italiani coinvolti appunto cadorna comandante in capo il capo come lo chiamano tutti i suoi ufficiali giornalisti il capo ha detto il capo ha fatto poi l'esercito è diviso in alcune armate poche 4 5 al massimo un'armata è una roba grossa quindi un milione di uomini il fronte di capo retto è difeso dalla seconda armata generale capello cadorna capello un'armata è divisa in corpi d'armata il settore che il nemico intende attaccare difeso da due corpi d'armata il quarto generale cavaciocchi il ventisettesimo generale badoglio tutti costoro sono sicuri che se l'attacco arriva tanto meglio badoglio badoglio sarà poi criticatissimo e dato il ruolo che ha avuto nella storia d'italia si capisce che non si sia mai smesso di discutere quanto è colpa di badoglio badoglio sembra strano dirlo adesso era un giovane generale molto moderno molto amato dai giovani ufficiali aveva fatto una carriera rapidissima era considerato il più bravo di tutti il giorno di capo retto non fa bene neanche lui assolutamente però fino a un attimo prima era considerato il più bravo ed era uno capace aveva capito che bisogna anche tenere rapporti con i soldati curare l'immagine e allora badoglio qualche giorno prima di capo retto incontrando i suoi soldati in marcia sulla strada li ferma e gli fa lo sapete che arriva l'offensiva si lo sapete tranquilli ragazzi niente paura gliele daremo secche o tanti cannoni da fracassarli e capello capello ancora più in alto seconda armata qualche giorno prima otto giorni prima dell'offensiva nemica quindi vedete già otto giorni prima ne parlano come di una cosa ovvia che si sa benissimo ci sono i tedeschi e capello dice ai suoi ufficiali tedeschi non sono mica meglio degli austriaci vuol dire che prenderò anche dei tedeschi per la mia collezione di prigionieri e cadorna cadorna due giorni prima di capo retto va finalmente a visitare il quarto corpo d'armata generale cavaciocchi era chissà quanto tempo che non ci andava forse non c'era mai andato a parlare con quel generale e vedere le sue posizioni va al comando del quarto corpo e al comando del quarto corpo il 22 ottobre l'offensiva arriverà il 24 cadorna esclama secondo me è un bluff ma se proprio vogliono venire vengano pure li prenderemo prigionieri e io li manderò a passeggiare a milano per farli vedere dopodiché quella sera cadorna torna al suo comando e il solito colonnello gatti annota nel suo diario il capo è stato fuori a vedere il quarto corpo d'armata l'impressione che il generale cavaciocchi gli ha fatta è stata pessima ma se ne accorge adesso e allora questo è un punto appunto i nostri generali sono abituati a starsi a ciascuno nel suo ufficio e a redigere circolari e non andare a vedere e questo non andare a vedere dall'alto in basso si ripercuote sono tutti così il povero cavaciocchi che la commissione di inchiesta individuerà in modo particolare come uno che ha delle gravi colpe quindi sarà mandato in pensione ma la commissione di inchiesta devo dire non ne ha per nessuno tranne per uno parla attacca duramente la commissione parlamentare di inchiesta cadorna attacca duramente capello cavaciocchi chi è che manca ecco badoglio aveva delle protezioni potenti in quel momento i politici preferiscono lasciarlo stare ma gli altri vengono inchiodati alle loro responsabilità ma non è tanto per via della commissione di inchiesta cavaciocchi ha avuto questa sfortuna che sotto di lui prestava servizio un giovane sottotenente degli alpini che poi diventerà famoso perché sa maneggiare la penna in modo straordinario è anche un criticone un caratteraccio uno sempre di malumore si chiama carlo emilio gadda e quindi uno dei grandi scrittori italiani del novecento gadda era sottotenente degli alpini nel corpo d'armata di cavaciocchi sarà catturato a caporetto e si farà fino alla fine della guerra in un lager gadda naturalmente già prima però di caporetto gadda teneva un diario in cui questo giovane sottotenente si permetteva di giudicare i suoi superiori e la sfortuna del generale cavaciocchi è appunto che il superiore era lui il sottotenente degli alpini gadda sul comandante del suo corpo d'armata generale cavaciocchi il generale cavaciocchi che deve essere un perfetto asino non ha mai fatto una visita al quartiere cioè non è mai venuto a vedere dove vivono i soldati non si è mai curato di girare per gli alloggiamenti dei soldati eppure giulio cesare faceva ciò si dirà non è suo compito e con ciò poi gadda per come è fatto lui ingrandisce le cose e a partire dal caso cavaciocchi stila un suo giudizio sottotenente degli alpini lui entra in cea sui generali italiani in genere asini asini buoi grassi pezzi da grand hotel sigari avana bagni termali ma non guerrieri non pensatori non ideatori non costruttori incapaci d'osservazione e di analisi ignoranti di cose psicologiche scrivono nei loro manuali che il morale delle truppe è la prima cosa e poi dimenticano le proprie conclusioni per chiudere con gadda e cavaciocchi prima di caporetto arriva la notizia di una grande vittoria tedesca in russia e il sottotenente gadda scrive nel diario i tedeschi hanno evidentemente dei generali meno cavaciocchi dei nostri dopodiché che il morale dei soldati è importante stava cominciando a venire fuori avete tutti sentito dire dopo caporetto si cambia sistema diaz al posto di cadorna attenzione al morale della truppa riposo ferie licenze case del soldato giornali spettacoli cinema propaganda in realtà come tutte le cose caporetto ha accelerato l'esercito italiano stava imparando ma molto lentamente c'erano già questi discorsi facciamo propaganda bisogna farla solo che poi i generali italiani non tutti avevano ben chiaro cosa vuol dire propaganda una delle divisioni del quarto corpo che veniva spazzata via in conca di plezzo il 24 ottobre la cinquantesima divisione alla cinquantesima divisione era ufficiale responsabile dei collegamenti telefonici un altro grande scrittore comisso giovanni comisso e comisso scritto un libro anche lui su queste vicende dove racconta che adesso dire il vero mi viene il dubbio in quest'attimo che l'aneddoto che sto per raccontarvi non sia nel libro di comisso ma in qualcun altro se fosse così mi scuserete ma ne ho trovato nel mio libro eventualmente racconta che alla vigilia dell'offensiva il generale comandante della divisione si sveglia all'improvviso dice ah già già la propaganda è stata fatta la conferenza gli dicono sì sì generale è stata fatta la conferenza conferenza è questo un teatro pieno di alpini arriva un conferenziere è un veterano della terza guerra di indipendenza ferito a custozza che allo scoppio della guerra nel 15 si è riarruolato è un entusiasta un grande patriota pieno di fuoco solo che a 70 anni e passa si è arruolato è ufficiale dei bersaglieri non sanno cosa fargli fare gli fanno fare le conferenze e il reduce di custozza fa una conferenza un teatro pieno di alpini sul tema è bello morire per la patria nell'archivio dello stato maggiore c'è il rapporto del comandante di quegli alpini che dice la sala rumoreggiava e questa è la propaganda e l'attenzione al morale dei soldati all'inizio come qualcuno la capisce e poi ancora appunto vizi italiani ce ne sono tanti e non è neanche tanto sportivo andare a elencarli però quando ti vengono fuori tutti insieme e ti danno questi risultati è inevitabile fermarsi un attimo la burocrazia spinta all'estremo il quarto corpo d'armata era famoso per la formidabile burocrazia che governava le sue retrovie il colonnello boccacci capo di stato maggiore del corpo d'armata quindi aiutante del comandante ma era quello che governava davvero perché generale cavaciocchi era uno storico militare era un bravo storico militare stava tutto il tempo a leggere a studiare le vecchie campagne di napoleone e chi comandava era il colonnello boccacci colonnello boccacci era famoso in tutto l'esercito italiano per aver inventato il taglio capelli obbligatorio sulle strade nelle retrovie del quarto corpo c'erano dei posti di blocco di carabinieri con la tabella alt controllo alt per tutti controllo taglio capelli colonnello boccacci due giorni prima di caporetto riceve gli ufficiali di una divisione che è stata mandata lì in fretta e furia appunto una delle tante che affluiscono perché cadorna sta cercando di costruire una linea di difesa questo vuol dire prendere una divisione che stava nel trentino e sbatterla in treno in un giorno e una notte in un posto che non hanno mai visto che non conoscono senza carte geografiche perché non ne hanno e però loro sono lì il colonnello boccacci riceve gli ufficiali di questa divisione uno dei quali ha poi scritto un libro raccontando questo incontro colonnello boccacci è alto bello biondo soprannominato attila e tiene questa conferenza ai nuovi venuti dicendo il nemico ci trova preparati loro avranno visto l'ordine perfetto che regna nel territorio del mio corpo d'armata e il corpo d'armata modello hanno visto le tabelle alt per tutti taglio capelli ognuno che passi è obbligato a lasciarsi passare sul cranio una tosatrice meccanica l'idea è mia non passeranno a proposito si facciano dare tutte le mie circolari con le norme di polizia stradale è una cosa alla quale tengo molto personalmente non tollero che una carretta marci se non alla sua destra ordine e taglio capelli questa cosa del taglio capelli noi rischiamo di non immaginare cosa voleva dire come mai ci sono innumerevoli testimonianze sia di ufficiali interrogati dalla commissione d'inchiesta sia di altri nei loro libri dopo che ricordano con odio questa cosa voi capite le retrovie sono dove sei lontano dal fronte lì per lo meno non ti sparano addosso arrivi di corsa perché hai finalmente la licenza è un anno che non vai a casa in licenza hai la tua settimana di licenza ti precipiti alla stazione a prendere il treno ti fermano per il taglio capelli ti devi mettere in coda e aspettare il tuo turno e ti tagliano i capelli a zero e a quel punto hai perso la tradotta e ti sei giocato un giorno di licenza e devi star lì ad aspettare la prossima è pieno di testimonianze che dicono al colonnello boccacci ogni tanto qualcuno sparava mentre passava in macchina ed è pieno pieno ci sono parecchi più di un ufficiale scherza nei libri scritti dopo dicendo dopo caporetto ci chiedevamo chissà se il colonnello boccacci e il generale cavaciocchi fermeranno anche i tedeschi per tagliargli i capelli a questo punto diciamo può essere un infierire inutile ma ve lo dico lo stesso dirvi che la commissione d'inchiesta scoprirà che il colonnello boccacci al comando intratteneva relazioni intime cito dalla commissione d'inchiesta con un esercente di generi alimentari nota come la bolognese e due giovanette del negozio tutte italiane nonché con ragazza slovena di facili costumi che aveva l'abitudine di dare a belle donne dei permessi di circolazione in zona vietata non si sa bene per quale motivo e che era noto per l'esibizione frequente e ostentata di fotografie di carattere pornografico di cui era appassionato autore e che sviluppava nel laboratorio del corpo d'armata naturalmente allora questo è un caso estremo però l'ossessione burocratica che nel quarto corpo raggiunge vertici di follia è comunque una caratteristica dell'apparato dell'esercito allora come è una caratteristica che viene fuori nel loro linguaggio nel linguaggio dei generali un'abitudine alla retorica ai paroloni alle belle parole gonfie che che celano il vuoto poi del pensiero il bello che è un'accusa che i militari rivolgevano ai politici cadorna il 30 settembre tre settimane prima di caporetto è a roma a incontrare il consiglio dei ministri e scrive alla moglie a roma il verbiloquio regna sovrano problema è che se uno legge le circolari e gli ordini dei nostri generali il verbiloquio regna sovrano anche lì circolare di capello sull'attacco si pensa che possa insegnare qualcosa su come si deve fare ad attaccare magari c'è qualche novità qualche invenzione i tedeschi stanno inventando modi nuovi di attaccare invece capello nel suo circolare scrive bisogna che l'impeto delle fanterie sia travolgente circolare di cavaciocchi sull'impiego dell'artiglieria ci sarebbero tante cose nuove sull'uso dei cannoni che i tedeschi stanno studiando è una cosa molto tecnica il cannone richiede competenza professionale molto specifica certo noi non siamo un paese molto avanzato c'è una lettera del generale capello in cui dice a un certo punto tra i nostri ufficiali di artiglieria ci sono più avvocati che ingegneri e questo è un problema perché ci vorrebbero gli ingegneri invece dopodiché il generale cavaciocchi alla sua artiglieria scrive voglio che il nemico sia inchiodato sul posto dal nostro fuoco il tiro di sbarramento deve riuscire magistrale se il nemico avanza il fuoco sia sterminatore più per la sua precisione che per il numero dei colpi sparati perché i colpi costano cari e ai nostri artiglieri infinite circolari ricordano che i proiettili costano cari quindi attenti prima di cominciare a sparare e allora quando un generale ha detto che il tiro deve essere magistrale che problema c'è tutto fatto evidentemente però questo stile era lo stile un po dell'italia di allora e forse non solo di allora era un'abitudine del nostro mondo intellettuale noi avevamo molti intellettuali famosi al fronte ed era anche una cosa moderna se vogliamo il comando aveva capito i grandi scrittori i grandi artisti sono indiviso sono ufficiali ma noi li mandiamo in giro gli lasciamo fare un po come vogliono d'annunzio è l'esempio estremo conoscete tutti ma non era l'unico un altro per esempio era filippo tommaso marinetti fondatore del futurismo vi racconto di marinetti in questo contesto che mi serve proprio poi dovremmo anche finire perché qui ma che mi serve proprio per delineare un altro limite del nostro esercito di allora rispetto all'estrema professionalità dei tedeschi io ho fatto un capitolo nel libro in cui vado avanti giorno per giorno un conto alla rovescia no con tante cose che succedevano ogni singolo giorno cose importanti o anche piccole cose un bel giorno arriva al fronte del lisonzo un ufficiale tedesco alcuni ufficiali tedeschi poi uno ha scritto un libro lo racconta è un giovanissimo ufficiale che però è già uno specialista è uno specialista dell'uso delle bombarde in alta quota le bombarde sono una nuova invenzione sono dei grossi pezzi di artiglieria molto corti che sparano quindi a pochissima distanza ma hanno un effetto molto distruttivo questa nuovissima invenzione ha le sue regole d'uso questo giovanissimo ufficiale è uno specialista e lui e altri colleghi ognuno nel suo settore passa qualche giorno nelle trincee austriache col solito berretto austriaco in testa intervistando i colleghi austriaci per sapere le posizioni italiane esattamente dove sono col binocolo si vedono individua esattamente le trincee italiane i capisaldi bunker e calcola esattamente con tabelle compasso dove collocare ogni singola bombarda necessaria per spianare quella singola trincea italiana lui e altri fanno questo giro dopo una settimana tornano con tacuini pieni di schizzi di cifre hanno calcolato sei o settecento bombarde ognuna esattamente dove deve essere messa e contro quale bersaglio deve sparare in quegli stessi giorni filippo tommaso marinetti che è anche lui ufficiale delle bombarde e a pranzo e lo racconta nel suo diario e a pranzo con gli ufficiali di un reparto di bombarde italiane e a questi ufficiali tiene un discorso che li riempie di entusiasmo dove gli dice e voi mi scuserete che le bombarde sono dei membri virili in erezione simboleggiano l'improvvisazione geniale italiana di guerra il genio improvvisatore italiano ecco io pensando che lo stesso giorno quegli altri erano di là che calcolavano segnavano pianificavano scrivevano tutto e dall'altra noi invece i nostri ufficiali sghignazzavano all'idea del genio improvvisatore certo che non erano tutti così però una certa tendenza in quella direzione purtroppo c'era e poi e poi per finire perché non ho più tempo ci sarebbero tante altre cose da dire dovremmo parlare di tattica però parliamo almeno di una cosa il nostro esercito ve l'ho detto sta facendo uno sforzo terrificante e alla vigilia di caporetto è veramente arrivato al limite delle risorse anche delle risorse umane troppi morti troppi feriti mancano gli ufficiali sono troppo pochi e ormai gli ufficiali bisogna farli in fretta gli ufficiali arrivano al fronte avendo fatto quattro settimane di allenamento di addestramento li chiamano i corsi di corsa ma questi ufficiali sono tutti muniti di un titolo di studio perché l'italia è un paese con differenze sociali molto forti è un paese con una borghesia colta ma non numerosissima e con un proletariato operaio non troppo numeroso è un gran mondo contadino in parte analfabeta e i nostri ufficiali sono i signori ufficiali questa è una cosa che mi ha colpito moltissimo in tutti i moduli in tutti i testi ufficiali in tutti i documenti ufficiali ogni singolo ufficiale è sempre presentato così sottotenente rossi signor mario e la burocrazia non cede ci sono le memorie di un ufficiale anche lui presenta caporetto mario mucini ha fatto un bel libro in cui lui racconta che è arrivato in trincea ha preso servizio in un reparto un po di tempo prima di caporetto arriva in trincea il nemico sta bombardando sotto il bombardamento arriva il furiere con il modulo per registrare la presa di servizio e lui gli deve dettare nome e cognome e detta sottotenente muccini signor mario e guai a non mettere quel signor e questo però vuol dire che l'ufficiale non sarà mai un contadino che magari ha fatto la guerra per due anni ha imparato a farla e quindi saprebbe comandare un reparto è impensabile quando mancano gli ufficiali si vanno a prendere gli studenti che non hanno ancora la maturità però insomma hanno finito il ginnasio e quindi a 18 anni possono andare a fare l'ufficiale e prima di caporetto appunto dopo le immense perdite delle offensive di quell'estate arrivano ai nostri reparti una marea di questi giovanissimi ufficiali e pieno di descrizioni di questi che arrivano in trincea che non hanno mai visto carichi di zaini strapieni di roba inutile sono lì sperduti che non sanno cosa fare non sanno dove andare li registrano e li mettono subito al comando di un plotone 20 uomini di una compagnia 50 uomini erano molto piccoli ormai quell'epoca i nostri reparti perché perché loro ci vuole un ufficiale per comandare la commissione d'inchiesta intervista un generale di quelli bravi che a caporetto se l'ha cavata bene il generale di giorgio siciliano gli chiedono ma il morale della truppa com'era com'erano i rapporti fra soldati ufficiali e il generale di giorgio alla commissione d'inchiesta dice una volta un caporale mio conterraneo interrogato da me sull'ambiente nel quale viveva rispose signor generale siamo in mano alle creature ma anche la truppa purtroppo in quel momento non è più di buona qualità perché le perdite sono state spaventose ed è pieno di testimonianze del fatto che prima di caporetto i reparti massacrati nelle battaglie precedenti sono stati riempiti con gente che o erano persone ormai di 35 40 anni che speravano di scamparla e invece sono andati a prendere anche loro gente sposata che non ha voglia di fare la guerra rimandano in linea i feriti guariti dall'ospedale che pensavano di aver finito e invece li rimandano in linea e qui non c'è dubbio che il morale di questa gente è basso come è basso il morale dei reparti che appunto i comandi si sono abituati a trattare come se fossero pedine su una carta geografica senza andare a vedere nel concreto in che condizioni sono queste truppe quando il generale capello che non era uno stupido neanche lui decide che vuole scegliere alcuni bravi ufficiali per fare conferenze alle truppe appunto e mancano pochi giorni a caporetto uno di questi ufficiali è un altro grande scrittore ardengo soffici che ha fatto un altro bellissimo libro la ritirata del friuli ardengo soffici viene mandato a fare conferenze alle truppe va diceva alla brigata vicenza e a riposo nelle retrovie ardengo soffici racconta sono arrivato alla brigata vicenza erano attendati nel fango sotto il diluvio pioveva da giorni e giorni era un mare di fango tutte le tende erano allagate non c'era niente di asciutto nelle cucine niente erano attendati lì non facevano assolutamente niente i soldati erano tutti lì con le mani in tasca sotto la pioggia con l'aria torva una marea di ammalati così tanti che non c'erano abbastanza dottori per curarli quindi un grande lazzaretto di tende anche lì con questi malati lasciati a se stessi e questa è la brigata vicenza a riposo che la storia ufficiale dice in quei giorni la brigata vicenza era intenta attivamente a ricostituire i suoi ranghi ardengo soffici torna al comando della seconda armata parla col capo di maggiore colonnello egidi e anche egidi non è uno stupido è un militare molto amato spiritoso un fiorentino e ardengo soffici gli ho detto cosa ho visto in che condizioni ho trovato la brigata vicenza e il colonnello egidi si è rabbugliato e mi ha detto ma com'è possibile abbiamo fatto un sacco di circolari dopodiché non stupisce che la brigata vicenza presa e trasferita nella catastrofe generale a sbarrare la valna tisone da cui stanno scendendo i tedeschi si spappoli non appena arriva a contatto con i tedeschi come si spappola e qui vado veramente a chiudere una brigata come la brigata salerno una brigata a quell'epoca metteva in campo 45 mila fucili al massimo d'accordo la brigata salerno nella decima battaglia dell'isonzo a fine maggio era stata distrutta aveva perso 115 ufficiali e 2319 uomini cioè un uomo su due era stato ucciso o ferito in quella battaglia cosa succede la mandano a riposo la riempiono di gente nuova la rimandano in battaglia undicesima battaglia dell'isonzo agosto nell'undicesima battaglia la brigata salerno perde 111 ufficiali e 2954 uomini più di uno su due ucciso o ferito durante quella battaglia tre soldati della brigata salerno lasciano la trincea senza ordine e scappano nelle retrovie li incontra il comandante della brigata generale zoppi e li fa fucilare sul posto alla fine della battaglia devo dire senza fare riferimento a questo episodio che forse neanche conosceva cadorna scrive a suo figlio che è uno dei migliori generali dell'esercito e ottavio zoppi che comanda splendidamente la brigata salerno è un ufficiale di molto valore pieno di intelligenza e di sacro fuoco salvo che nel nostro esercito se vuoi conservare la stima dei superiori il sacro fuoco lo devi far vedere anche fucilando e a quel punto la brigata salerno che ha perso appunto 3000 uomini su 5000 la riempiono di nuovo di gente appena arrivata dal paese e poi la mandano a difendere una posizione che dirà qualcuno si poteva difendere anche solo a sassate il monte mataiur e sul monte mataiur la brigata salerno non trova trincee pronte non trova collegamenti telefonici non trova niente si prepara lì a respingere l'attacco nemico che arriverà davanti e poi invece il giorno dopo scopre che i tedeschi sono già dietro e a quel punto la brigata salerno quando i tedeschi le attaccano da dietro un reparto dopo l'altro fa un po di resistenza e poi rimolla perché non se ne può più e allora esci coi fazzoletti bianchi e gridi viva la germania perché ci sono innumerevoli testimonianze del fatto che i nostri un po per evitare che ti sparino nella pancia appena esci ma un po anche credendoci qualcuno a contatto con un nemico che adesso non ho avuto tempo di raccontarvelo ma credetemi sulla parola la guerra la fa in un altro modo con un'altra efficienza molti dei nostri si mettono a gridare ma viva la germania allora ma al diavolo l'italia vadano a milano vadano a roma testimonianze concrete di cose che si dicevano nella ritirata colonnello pisani comandante della brigata foggia subito prima della battaglia avevo ricevuto circa 3.000 uomini di truppa elementi appartenenti a classi anziane nuovi assolutamente alla guerra la maggior parte perfettamente digiuni dell'uso delle armi gli davamo le bombe a mano e ne avevano paura e le lasciavano cadere piuttosto che tenerle la brigata foggia verrà schierata davanti al paese di caporetto nel pomeriggio del 24 ottobre e verrà sbaragliata dai tedeschi nel giro di un pomeriggio con nello pisani sarà catturato queste cose le scriverà al ritorno dalla prigionia alla fine della guerra ma l'ultimissima davvero ultimissima cosa che vi volevo dire perché come dire è un lascito di caporetto un lascito in quell'epoca in quel momento che ha delle conseguenze in quel momento tra gli ufficiali e tra i generali ve l'ho detto cadorna dirà è colpa dei soldati corrotti dalla propaganda dei rossi e sono idee diffuse c'è una lettera di un altro intellettuale famoso il pittore rosai ottone rosai che era ufficiale alla brigata tortona poco prima di caporetto ottone rosai scrive la brigata è imbastardita le perdite subite nell'azione della bainsizza sono state colmate con l'invio di nuovi elementi aperte nell'occasione le galere gli ospizi i manicomi ci capita su un nuvolo di gente malfatta zoppicante contorta e soprattutto mal disposta il medico di battaglione deve riceverne tutte le mattine delle frotte cioè capite ogni mattina moltissimi di questi nuovi marcano visita ma l'ordine è di non riconoscere in loro alcun male e l'olio di ricino e il bastone han trovato lavoro quando uno poi si ricorda che ottone rosai sarà uno squadrista accanito da lì a pochissimi anni un pochino ti si rizzano i capelli in testa effettivamente e non è una testimonianza isolata il bollettino di cadorna che dice che a caporetto abbiamo perso perché i nostri sono scappati fa il giro del mondo quando i prigionieri di caporetto arrivano nei lager ci trovano gli altri italiani già prigionieri da prima che spesso li accolgono malissimo dicendo a voi siete i vigliacchi di caporetto vi cito una lettera scritta da mauthausen il 22 dicembre da un prigioniero che era lì già l'anno precedente e che racconta a casa che sono arrivati questi vigliacconi di caporetto questa maledettissima seconda armata che ha abbandonate le armi bisogna vedere con quale spudoratezza si erano presentati qui i primi giorni vi abbiamo portato la pace dicevano speriamo che i tedeschi arrivino a milano ed anche a roma adesso sono pentiti sacramento se sono pentiti e si mangiano le dita è doloroso ma purtroppo noi siamo un popolo che abbiamo bisogno di 50 anni di bastone e finalmente se la politica nomina una commissione d'inchiesta per vedere quali sono i generali colpevoli di caporetto i generali non ci mettono niente a ritorcere l'accusa contro la politica se il paese è smidollato è colpa della politica ai primi di novembre il 6 novembre si tiene una conferenza a rapallo con gli alleati il nostro primo ministro vittorio emanuele orlando incontra inglesi americani francesi e questi gli fanno capire che deve cacciare cadorna e orlando si arrende anche perché l'italia sarebbe alla fame anche lei senza le scatolette di carne degli americani e al freddo anche lei senza il carbone degli inglesi quindi noi dipendiamo da loro totalmente perciò loro ordinano e cadorna viene cacciato la reazione nell'ambiente del comando supremo è di dire i nostri politici sono veramente un'infamia il colonnello gatti che era lì ci dà questo quadretto dice la sera della conferenza di rapallo eravamo riuniti nella stanza del commendatore petroziello segretario del primo ministro arriva il primo ministro si siede sul letto e comincia a cercare di scusarsi di quello che ha dovuto fare cioè cacciare cadorna che secondo i militari non ha nessuna colpa e orlando primo ministro racconta agli ufficiali dal diario di gatti appunto non potete immaginare la vergogna che io ho provato oggi sentivo di essere trattato come un servitore alla porta ero e mi mandavano a chiamare quando volevano ma che fare potremmo essere affamati fra due mesi se non accettassimo e il colonnello gatti commenta anzi descrive e continua a dire noi lo stiamo a guardare e capiamo ciò che dice cioè che la classe dirigente italiana è impotente piglia di tanto in tanto tabacco si mette seduto con la gamba sul letto è il primo ministro è mi scuserete c'è una parolaccia ma le fonti sono sacre vanno citate infiora il discorso il primo ministro con un cazzo di tanto in tanto è una cosa pietosa e obbrobriosa ecco in una parte del della classe dirigente militare italiana caporetto lascia questo il popolo italiano ha bisogno del bastone e dell'olio di ricino i politici liberali sono pietosi e obbrobriosi e allora forse non è così strano che poi alla fine della guerra noi abbiamo avuto un destino più simile a quello dei paesi sconfitti che non dei paesi vincitori grazie grazie a tutti grazie a tutti